Dai, fatti sotto! Brutto pallone gonfiato che non sai altro! Io non sono un pallone gonfiato come osi insultarmi! Adesso ti faccio vedere io! Muoviti, Krillin! Dobbiamo andarcene via in fretta da qui! Cosa? Arrivo! Sei un grande maleducato! Questa volta mi hai fatto proprio arrabbiare! Ho capito quali sono i tuoi poteri, mi spiace! Non ti temo più! Ehi, Junior! Perché non lo fermi? Se resta a combattere da solo contro quel terribile mostro, finirà con lasciarci la pelle! Finalmente Vegeta si è deciso a battersi per qualcun altro oltre che per se stesso! Ma non credevo che l'avrebbe mai fatto! Non mi fai nessuna paura, sai, Majin Buu! Con uno sforzo immane, Vegeta raccoglie tutte le energie che gli sono rimaste per prepararsi a distruggere per sempre il micidiale Majin Buu! Credi di spaventarmi? Ora ti trasformerò in un cioccolatino, anzi no, in una caramella! E poi ti mangerò in un boccone! Per distruggerti davvero, dovrò fare in modo che non possa più ricomporti! Tra non molto non rivarrà nulla di te! Lo farò per Bulma e per il piccolo Trunks Perché mi ha voluto bene! Oh no! Vegeta! Oh no! Vegeta! Vegeta! Un valoroso guerriero...